Sì, oggi era una partita, sappiamo una settimana che dobbiamo vincere, sappiamo che anche dobbiamo sapere soffrire, sappiamo che tutte le partite sono difficili, però è importante vincere a casa, che dobbiamo continuare per questa strada. Tante volte devo cercare la palla perché ho bisogno di prenderla, devo trovare l'espazio e cercare bene. Ogni tanto vengo per far uscire le squadre e sempre pensare alle squadre. Anche oggi il campo aveva un po' di sabbia, quindi era difficile. Sappiamo, come ho detto prima, non dobbiamo pensare, nimolare, è importante vincere. Ogni tanto dobbiamo sapere soffrire, come ho detto prima, è importante vincere. Dopo una settimana è importante vedere quello che abbiamo fatto male e pensare alla prossima partita. No, no, io sempre, come ho detto prima, sempre sto pronto. È importante chi fa gol, se no essere importante per le squadre è importante fare e fare vincere. Noi, come ho detto prima, noi siamo primi, non dobbiamo cercare fantasmi e cose strane. Noi siamo primi e le squadre sono dietro. Noi abbiamo vinto, è importante vincere. Come ho detto prima, noi dobbiamo trovare fantasmi e pensare a cose strane. Se puoi anche giocare male, soffrire, è importante vincere. Ma è importantissimo per noi il tifosi. Anche quando stai molando, quando stai giocando male, il tifosi ti fanno svegliare. Per noi è troppo importante, magari stanno sempre. Grazie. 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 Grazie.